...per la stagione velica sulle coste francesi del Mediterraneo. Nel porto i marinai provvedono alla toaletta dei panfili, si verniciano gli alberi, si calafatano gli scafi, si preparano le vele. Un otto metri si apparecchia a prendere il largo, la grande vela è spiegata, si allentano le gomene, si issa il fiocco. Vento in poppa, si issa una terza vela e l'imbarcazione, guidata con mano sicura dal timoniere, fende l'onda con l'impeto di un bianco corsiero del mare. Vento in poppa, si visitano al mostrano, si vedi l'imbarcazione, guidata con mano sicura dal timoniere, si fai ilックio, si scu Grazie.